notizie in un clic punto com è una testata giornalistica online con informazione a livello nazionale e locale notizie in un clic punto com pubblica fatti non opinioni notizie in un clic punto com la notizia giusta per te ciao a tutti io sono loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di youtube notizie in un clic visto il successo ottenuto all'interno del mio portale di informazione notizie non clic punto com la sezione di educazione finanziaria ho pensato di pubblicare in maniera cadenziata dei video che ne trattano l'argomento i temi trattati li potete trovare nel libro lessico finanziario scritto dal professor beppe ghisonfi edito da aragno buona visione e naudi liberale economista europeista di aldo molla storico nel settantesimo del suo insediamento alla presidenza della repubblica il 12 maggio del 2018 capo dello stato sergio mattarella ha rievocato luigi naudi nel settantesimo del suo insediamento alla presidenza della repubblica italiana visitando nei luoghi memorali la tomba del cimitero di carui provincia di cuneo e la villa di dogliani dalla celebre biblioteca ove è stato accolto dai familiari dell'insigne statista guidati dal nipote architetto roberto inaudi nella sala del consiglio municipale di dogliani dopo il sedenso profilo culturale tracciatone da massimo salvadori il presidente mattarella rievocato alcuni aspetti fondamentali del ruolo svolto dal suo predecessore al quale toccò con alcide de gasperi il compito di definire la grammatica democrazia italiana appena nata rinviò al parlamento due leggi perché ha ricordato il presidente mattarella comportavano aumenti di spesa senza copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della costituzione per chiarezza e a futura memoria il 12 gennaio nel 1954 inaudi l'esse aldo moro e a stanislao ceschi presidenti dei gruppi parlamentari democristiani la nota verbale sulla corretta interpretazione dell'articolo 92 della carta il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio motivata dal dovere del presidente della repubblica di evitare si pongono precedenti grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmette al suo successore immuni da ogni inclinatura le fecoltà che la costituzione gli attribuisce ed è un dovere oggi incombente esponente della cultura antifascista ha detto il presidente mattarella dogliani firmatario del manifesto promosso da benedetto croce senatore del regno inaudi non mancò mai alle sedute in cui manifestare di senso a provvedimenti liberticidi come nel 1928 quando venne approvata la riforma elettorale che introduceva la lista unica dei candidati approvata dal gran consiglio del fascismo o su provvedimenti contro l'umanità come le leggi razziali nel dicembre del 1938 fu patriota consapevole di contribuire con la sua testimonianza di orientamento monarchico al consolidamento della repubblica democratica alcuni spunti del suo profilo inaudi nasce a carrui il 24 marzo del 1874 e muore a roma il 30 ottobre del 1961 fu eletto presidente primo presidente effettivo della repubblica italiana al quarto scrutinio l'11 maggio del 1948 inaudi non aveva studiato da capo dello stato aveva studiato perso a 12 anni il padre crebbe in casa dello zio francesco fracchia notaio a dogliani laureato in giurisprudenza a torino appena ventenne dopo un breve impiego della casa di risparmio di torino inaudi iniziò a scrivere per la stampa di torino già nel 1896 e fu professore dell'istituto tecnico franco andrea bonelli di cunio e al germano sommelier di torino credeva nella bellezza della lotta in cui titolò un saggio nel 1923 nel 1922 appoggiò il governo di coalizione nazionale presieduto da benito mussolini che ventilò il proposito di averlo come ministro delle finanze affinché potesse attuare i suoi insegnamenti dopo molte lezioni di fondamentali principi di scienze della finanza condensò decenni di studi in miti paradossi della giustizia tributaria al crollo del regime mussoliano e inaudi fu nominato rettore dell'università di torino mentre filippo burzio assunse la direzione della stampa consapevole delle drammatiche difficoltà nelle quali versava il paese anziché vagheggiare progetti tanto vasti quanto inattuabili punto a realisticamente di interventi a pezzi e bocconi come narrato dal suo fido segretario particolare antonio da roma doveva ristrutturare un edificio occupato da persone che non potevano essere allontanate la romana burocrazia nostra sovrana capo dello stato e inaudi lasciò la memoria del suo operoso settennato in lo scrittoio del presidente prediche inutili continuò a studiare pubblicare e promuovere ricerche per unire gli italiani come poi fece negli anni seguenti restituito alla cattedra universitaria con speciale decreto qual è l'eredità di enaudi quando sentiva talora anche da persone vicine vagheggiare di ideologie sovietiche neppure rispondeva batteva il bastone per terra per dire che era impossibile dialogare anche gli auspicò riforme mai attuate a cominciare dall'abolizione del valore legale dei titoli di studio avversò estremamente il mito dello stato sovrano anche con pagine pubblicate nella piccola antologia federalista comprendente scritti di jean monnet e dennis rogemont e di molti altri qui abbiamo appunto parlato accennato di luigi inaudi e abbiamo finito con oggi per chi volesse leggere tutto l'articolo può andare su notizie non clic e cliccare come dico sempre nella lente e digitare inaudi liberale economista europeista grazie per la vostra attenzione vi do appuntamento per domani che parleremo di equitalia agenzia delle entrate